Buongiorno paesano, il popolo dorme, non si vuole svegliare stamattina e beh la sera io faccio battaglia, qua la mia vita non si scherza, si mangia, si chiacchiera, si passa il tempo e insomma io cerco di godersi per le vacanze, è una cosa che ora la da sapere il dolce sennò come faccio a dire che è dolce, dopo un periodo di amare, e beh è pure così la musica l'importante è godersi la vita, quanti d'ora, e che ne sa, nessuno sa ma l'importante è quello che ora da fare, da stare tranquillo, da campare tranquillo Oddio, un ristro... sono chiacchierate e davvero vinte, beh stamattina un video corto perché tengo la batteria a scarico non è che un telefono è meglio che ne chiaremmo ancora uno capisce ma la mente dice ma cosa? Che lì è successo? Tiene un pello scatto, noi ora guardiamo pure la tutta di orso, il popolo generoso che si prende cura della mascotta di Venosa, ma passate per la buona, non vi dico che facete perché la prima mattina l'acqua è uomida e viene l'umatismo. Tutto sommato, tutto va bene, se c'è un'età venuta, lo faremo, se non stacete bene, adecete quello che fate, è sempre bene, l'importante è godere la vita. Ciao, buona giornata a tutti e buon proseguimento di giornata, siate felici e godetevi che è una sola, un rischio, una sola chiacchiera, beh, un abbraccio a tutti. Ciao, buona giornata, ciao.